un'analisi di quello che sta succedendo, perché adesso e che conseguenze potrebbe avere? Perché adesso è interessante, perché c'è una sovrapposizione di vari fattori, cioè rivolgimenti sotto molti aspetti storici che stanno interessando l'area circostante a Israele, cioè per esempio la riapertura dei canali diplomatici tra Arabia Saudita e Iran, raggiunta grazie alla mediazione cinese, la riammissione della Siria di Bashar al-Assad nella Lega Araba, questa resa possibile dalla mediazione russa fondamentalmente. Quindi si assiste a, non direi a una ricomposizione, ma comunque a uno stemperamento graduale delle tensioni che per decenni hanno insanguinato il Medio Oriente. Ricordiamo che l'Iran e l'Arabia Saudita sono storicamente collocati su fronti contrapposti, l'Iran a luardo del mondo sunnita, ospita le città sante, l'Iran invece è caposaldo del mondo sciita e diciamo epicentro del cosiddetto asse della resistenza, la mezzaluna sciita che va da Teheran a Damasco e arriva fino a Libano attraverso Hezbollah. Diciamo che molti dei conflitti che hanno interessato il Medio Oriente, da quello siriano a quello yemenita, possono essere letti attraverso questa chiave interpretativa di contrapposizione tra l'Iran e l'Arabia Saudita. Una contrapposizione che ha visto Israele, benché non riconosciuta dalle forze, da nessuno sostanzialmente di questi paesi all'epoca, scarrellare gradualmente dalla parte dell'Arabia Saudita, perché il principale interesse di Israele è quello di contenere, di ridurre per quanto possibile l'influenza iraniana nella regione. L'Iran che è stato storicamente uno dei principali sostenitori della causa palestinese, soprattutto in una certa fase storica di Hamas, ma si era registrato un raffreddamento sotto quest'ottica nel momento in cui una parte importante di Hamas aveva sposato la causa dei ribelli siriani contro il governo di Assad, che come sappiamo è un alleato di ferro della Repubblica Islamica dell'Iran. Adesso comunque i rapporti sono tornati stabili tra l'Iran e Hamas e sicuramente c'è stato un appoggio anche materiale da parte dell'Iran e Hamas, storicamente questo è innegabile. Quindi alla luce di questo sconvolgimento areale sul quale ha richiamato l'attenzione anche un ex direttore del Mossad come Efraim Alevi, che in un'intervista alla CNN ha dichiarato che la riapertura dei canali diplomatici tra Arabia Saudita e Iran offriva a Israele l'opportunità d'oro per fare un ripensamento del proprio modus vivendi nella regione e quindi cercare anche magari in maniera felpata e sotterranea una soluzione di compromesso con l'Iran che stabilizzasse le relazioni con quello che percepisce come il nemico principale in quell'area, no, sta soltanto in quell'area, come il nemico giurato di Israele. Questo però un verso. D'altro canto, prego, prego. No, 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 ti chiedevo, poi però in realtà quello che abbiamo assistito è proprio un'altra cosa, c'è l'esplosione invece di un conflitto che non ha niente di trattativa sotterranea, delle cose che magari sono un po' brutte da dire ma sono belle da fare, nel senso trattare al di sotto con il nemico per fare la pace. Giunge in quel momento perché Israele sotto certi aspetti poteva essere considerata come isolata. Infatti c'era per esempio questo progetto portato avanti dall'amministrazione Biden di normalizzare i rapporti dell'Arabia Saudita e Israele, secondo fonti riportati da un giornale saudita, era stato bloccato proprio perché la politica israeliana stava rivelandosi sempre più oppressiva nei confronti dei palestinesi e questo i sauditi non l'avrebbero mai accettato. Questa è la posizione dell'Arabia Saudita naturalmente. Dopodiché questo episodio nasce matura in questo contesto generale geopolitico circostante. Sul versante interno Israele per esempio si è registrato e questo Areas per esempio che il giornale israeliano disse nell'articolo di oggi e di ieri ma anche nei giorni passati è stato durissimo verso il governo di Netanyahu che per rimanere al potere si è legato a partiti di ispirazione religiosa portatori di una visione estremista, ultra radicale anche dell'atteggiamento da riservare alla popolazione palestinese che come sappiamo è confinata specialmente nell'area di Gaza in quello spicchio di terra sorvegliato accuratamente dagli israeliani. naturalmente questo conflitto è un conflitto tra due ormai ultra decennale quasi 70 anni, anzi più di 70 anni tra due paesi, tra due entità che sostanzialmente si odiano e che risulta incomprensibile oltre ogni capacità di comprensione da parte di qualsiasi attore esterno che non sia coinvolto direttamente nella vicenda. Noi questo dobbiamo sempre tenerlo presente a mio parere perché con episodi come quello per esempio l'ercidio nei confronti di quei ragazzi quel rave che era nel deserto quello è un'esplosione di violenza una sete proprio di vendetta è una vendetta a tutto tondo e quindi si iscrive in questa logica logica di regolamento di conti è proprio quello che ha comunque un risvolto politico molto importante che è stato messo in luce dalla Basile cioè questo evento non nasce c'è una tendenza diciamo tutta occidentale a isolare le vicende dal contesto generale in cui maturano e soprattutto isolarle storicamente cioè come in una timeline si separa un fotogramma da tutto il resto e quasi che quell'evento si spieghi da sé e quindi sia un riconducibile al colpo di testa di qualcuno e non invece a logica che si protraggono da decenni e Amars in questo modo ha semplicemente portato avanti un'operazione che era impensabile solo pochi mesi fa perché io non ho ricordi che Israele sia stato messo sotto scacco così pesantemente da forze palestinesi e qui sono riusciti dapprima a saturare le difese aeree di Israele con il sistema d'Iron Dome che ha dato una pessima prova che ha parlato di errori tecnici staremo a vedere ma comunque i missili sono piovuti su Israele proprio perché l'intensità e il volume di fuoco spregionato dalla striscia di Gaza è riuscito a metterli fuori gioco dopodiché sono entrati questi incursori delle brigate Al-Kassan sono riusciti a penetrare sia via terra che via cielo paracadutandosi da deltaplani in territorio israeliano cogliendo completamente alla sprovvista i militari che erano sul luogo e quindi prendendoli in alcuni casi in ostaggio in altri semplicemente eliminandoli ci sono delle scene di brutalizzazione nei confronti dei coloni che sono piuttosto raccapriccianti sono circolate su Telegram non è una cosa bella da vedere insomma